E' bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Ma perché mi devono interrompere sempre facendo la intro? Ma lasciamo perdere perché oggi siamo su Oggi siamo su un gioco dove in cui si deve usare il Bang Bang Perché è molto bello, chiamato anche Call of Duty Black Ops 4 Non sentivate dal molto, non sentivate anche da molto Un certo, un certo pescatore esperto, pescegatto E adesso, e adesso, e adesso vedremo come andrà a finire questa partita Niente ragazzi Va bene, va bene E ci vediamo in partita Bene ragazzi, eccoci qua, scegliamo il nostro operatore Io dirì di prendere una bellissima Non lo posso dire perché se no lo scoprono Adesso vediamo come va a finire ragazzi Vediamo se sarò Nabbo anche qua Vediamo se sarò Nabbo anche in questo gioco Non posso dire nulla perché è vero, sono Nabbo pure qua Mamma mia E' il bello che io non sento i passi Perché il microfono che c'ho io Ah ecco, che lato Non mi va a sentire l'audio del gioco Facciamo quello No No, non ci credo Ragazzi, pesce ci ha fatto Il miglior pescatore di sempre Non ci voglio credere Non è possibile Adesso gli facciamo vedere noi ragazzi Ma Dai Questa non ci voleva ragazzi Questa non ci voleva Ci hanno rubato le armi Qualcuno ci ha rubato le armi Acuto, pensaci tu Mi sto scordando di dire Di andare a seguire Salvo su Twitch E di iscriversi anche al canale di Alex E anche degli altri che lascerò in descrizione Iscrivetevi, mi raccomando, a ZZTube A Darkmoop E tanti altri che lascerò in descrizione Niente Sta andando male questa partita Sta andando molto male Sono un hub anche qua purtroppo Però No Eh, 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 eh No, Salvo che fai? Mamma mia, meno male Mamma mia, meno male L'ha salvato E qualcuno Mi aspetta nelle scale Il pescatore supremo Ormai voglio vedere nei commenti Hashtag Il miglior pescatore di sempre Adesso vediamo Quanti di voi Fidano in pesce A essere il miglior pescatore Ma quella volta L'unico pesce L'ha frutto tutti, ricordi? Ma dai Non ci voglio credere Mamma mia No, no, no Non l'avevo visto Eh niente, niente Sta andando pure questa male Questa non ci voleva La re C Uuuh Ma no Ragazzi sono l'unico Che non ho la VPN Da stupido Ho sprecato La mazzetta gratuita Quindi sono Sono Completamente uno scemo Si può dire Adesso No Come è arrivato qua Porca miseria Direi di fare così Facciamo così Bravo Bravo Oh Chiamare il numero verde Cavolo Proprio mentre cambiavo l'arma Eh niente No, no, no T'ho visto Però Stavo cambiando l'arma Porca miseria Questa Tutti mi dicono Che sono fortunato Ragazzi Ma non è così Purtroppo Eh guardate qua Guarda Mi stanno Completamente Stracciando Mi sa che il titolo Di questo video Sarà gioco con dei pro Non lo so Oppure provo Quello di Oppure provo Quello di Adesso Adesso vediamo Non devo guardarmi Adesso Saro Aspetta Oh mamma Vediamo 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 No No vabbè Sono troppo Scarso Parla Dove No 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 Il cane cane il cane questo non ci voleva mi dissocio ma il tuo cane mamma mia cani seria poi ne facciamo un'altra vediamo se magari miglioriamo perché va beh che sono vantaggiati perché non sento l'agio del gioco voi eh vabbè niente scuse la verità eh vabbè 36 di vita purtroppo vediamo cosa cosa possiamo fare ma in questa partita sta andando veramente a male ma non è un mongoloide ma la vede ok non faccio uscire poi quella come non faccio uscire eh niente sono morto peccato eh vabbè yes il pescatore va giù e niente ovviamente iscrivetevi e lasciate like se questo video vi sta piacendo e sopportatemi se volete però 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 sono troppo nab sì sì come no vai vai vieni sì ce l'ho fatta no mentre ricarico yes yes no facendo tutto il attivazione destabilizzatore mh era no 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 niente questa partita è andata così no questa partita si fa cambio squadra è volendo dai no no peccato 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 vopvopvopvopvv Mamma mia Eh vabbè niente ragazzi Questa partita è andata così È andata così È andata così Vediamo la giocata di Fraalfo cosa ha fatto Vediamo che giocata ha fatto Eh vabbè E niente È andata così quindi si fa cambio squadra No Va bene Va bene dai ragazzi Ci vediamo alla prossima partita Qua Allora ragazzi Io metto battery per vedere come va a finire Sono con pesce gatto Abbiamo fatto cambio di squadra Almeno credo che è pesce Credo sì è pesce ok Allora Va bene va bene va bene Seguiamo il pescatore Va bene Va bene va bene va bene Seguiamo le tecniche del nostro signore Adesso vediamo un po' Cosa dovrebbe succedere ma Per ora non c'è nessuno Tu dici Adesso vediamo ragazzi Se effettivamente funziona Se effettivamente funziona oppure no Fatto Sì sì funziona bene Funziona bene questa tecnica Cerchiamo Adesso vediamo cosa succede Però Non è un po' camperone Così pesce Eh niente Niente Va bene va bene va bene va bene va bene Dai Ho in mente una cosa Ben Ok non c'era nessuno Fatto Torno indietro Mamma mia ragazzi Che partita Che partita ragazzi Che partita Niente Ho fatto Eh niente Va bene Ragazzi sembra che le tattiche stanno funzionando Incredibile Quindi ragazzi se volete Seguite i consigli di pesce gatto Se volete giocare in questo modo Che Ah ma Niente Scane Fatto Niente ho sbagliato Ci arriva Ma se più forti Mi faccio ramazzare Da più scarsi Niente Qua non ce l'ho potuta fare Perché avevo poca vita Andiamo di qua E niente Ragazzi quella WMP la voglio anch'io È troppo forte Solo che io l'ho sprecata la mazzetta Esatto Non fate il mio stasso errore Magari sono lì dietro Mamma mia mamma mia Mamma mamma mia Aia Sì Guardate là ragazzi Posso ben mimetizzare volendo Adesso li aspettiamo Vediamo se Niente Sale Il segno Il tempo a camperare Bravo bravo Ottimo 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 Davvero molto buono Sì va bene Sì va bene Salgono in due Mi devo curare Vado qua Vedo se salgono di qua Da dietro Ammazzato Oh Stai zitto È il momento La sfiora No Facciamo una Quina Vediamo che è il fuoco E niente Dai ragazzi Ci stiamo addestrando bene In questa partita Taglia Lancio la mina Ma basta di camperare Però Mamma mia Andiamo 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 Adesso vediamo Sale Fatto Fatto Devo ricaricare Ho rubato la WMP Mamma mia Ragazzi Che partita Sto vedendo una partita Veramente Da guardare Di qua Anche Però devo tenere Anche doppio le scale Ragazzi Perché D'altro lato Quindi di qua Ma tu sei scarso Ho visto Ok Mamma mia Teniamo doppio anche qua Ragazzi Perché secondo me Qualche imprevisione Può succedere Ecco Mamma mia Guardo dietro Adesso vediamo Ragazzi Stanno puttando Da davanti C'è il suo cano E niente Bravo bravo Ragazzi Alfo sta sclerando Durante il video Incredibile Vuol dire che Ci stiamo Destreggiando Abbastanza Va bene Niente Io dico che dopo questa partita Il video finisce Perché è già durato 20 minuti Eh ci sta andando Va bene Adesso vorriamo Adesso vorriamo Vediamolo qua Mamma mia Mamma mia Ma tu sei solo a camperare Proviamo a lanciare una vino Non si sa mai No Poi vediamo Cosa ne pensavo nei commenti Lo sapevo Io che dovevo guardare L'altra parte Sta venendo L'istinto Di andare a guardare Di là Ma non ci sono riuscito In tempo Un minuto Un minuto e mezzo Adesso vediamo Cosa succede Stanno usando La nostra stessa tecnica Quindi C'eriamo C'eriamo Di molto meno a scondere Io spero Che ci scherziamo Adesso vediamo Adesso vediamo Stiamo nascondendo Adesso vediamo Lo è stato un po' Aia C'è baccato il gioco A posto Mi ha crashato il gioco Di probabilità Non ho fatto niente Va bene Ma voi sapete solo No Ok Ok Ma voi Ma voi Ma voi che ho comparato Agli sponi Guarda 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 Fralfo Io sono il più E io sono il più Nabbo di tutti Ovviamente No E pesce più scasso di tutti Perché almeno tu sai come si gioca a cose Pesce non sai neanche come si gioca a cose Va bene dai Lasciate like Iscrivetevi al canale Iscrivetevi Sì Iscrivetevi al mio canale Iscrivetevi anche Callanari Con cui collaboro Che li trovate tutti Sotto in descrizione Seguite salvo su twitch Iscrivetevi al canale Di Alex Darkmuth Zizi Asso di Jack E molti altri E niente ragazzi Questo video Si conclude qui Ciao